Musica Al comunale di Bologna, congresso dei socialdemocratici, ritratto di Matteotti sopra il tavolo della Presidente. Escluso un ritorno al governo, a cui la onorevole Bianchi non sarebbe contraria. Simonini, firmatario della mozione di Vestra, si ritirerà da una delle sedute. Tremelloni caldeggia una ferrea politica tributaria, tra i presenti d'Aragona, mentre Lombardo afferma la necessità dell'unificazione europea. Le mozioni che erano sei all'inizio si ridurranno a quattro. Romita è il presentatore di quella di sinistra. Ma in definitiva prevarrà Saragat, che si è pronunciato favorevole al patto atlantico e contrario al sistema produttivo liberista. La nuova direzione, con lieve maggioranza saragatiana, sposterà il partito verso il centro-sinistra. La nuova direzione, con lieve maggioranza saragatiana, sposterà il partito verso il centro-sinistra.